Scandici Open City 2021 La città diventa un grande palcoscenico Dal 24 giugno al 26 settembre 140 eventi in 30 location sparse su tutto il territorio Tra spazi pubblici e privati L'iniziativa presentata in consiglio regionale San Casciano dei Bagni riapre la sua terrazza Dal 3 luglio all'11 settembre 15 appuntamenti Principali ospiti della rassegna L'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi E gli attori Isabella Ferrari e Marco D'Amore Un'edizione ricca di appuntamenti Quella di Scandici Open City 2021 Con oltre 140 eventi organizzati in 30 spazi diversi Fra pubblici e privati 26 le realtà culturali coinvolte Che per tre mesi dal 24 giugno al 26 settembre Trasformeranno la città in un grande palcoscenico Con spettacoli di teatro, musica, cinema, danza e circo contemporaneo Ma ci saranno anche talk show e incontri di poesia Alla conferenza stampa di presentazione Intervenuto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo Il consigliere regionale del territorio Fausto Merlotti L'assessore alla cultura del comune di Scandici Claudia Sereni E il responsabile di relazioni esterne di Unicop Firenze Claudio Vanni Tra i partner che hanno sostenuto questa speciale edizione Ci ritroviamo in una condizione davvero bella Poter ritornare a vivere, a respirare, a ritrovarsi, a riabbracciarci Questo cartellone di eventi dà il segno vero della ripartenza Ormai giornalmente ogni comune cerca di dare messaggi di positività E allora è bello che questo cartellone sia stato costruito dal basso Con un vero processo partecipativo che coinvolge mondo sociale, mondo economico Che coinvolge le tante associazioni del territorio Che hanno dato ognuno la propria parte per lanciare questo messaggio di speranza Un messaggio di positività Sono davvero estremamente soddisfatto di essere qui E avere insieme in consiglio regionale l'assessore Claudia Sereni Per il comune di Scandici E devo dire che si riapre, si riparte Anche se Scandici sulla cultura onestamente non ha mai chiuso Lo scorso anno fu un'edizione estremamente qualificata Ricca di eventi e assolutamente apprezzata Non solo dagli scandicesi ma da tanti cittadini e cittadine Che anche grazie all'utilizzo della tramvia Vennero a trascorrere serate di interesse culturale elevato a Scandici Quest'anno il comune con uno sforzo importante Grazie anche a degli sponsor In particolare Unicop Che ringrazio anch'io per questa disponibilità e questo impegno Riparte con eventi di livello Con un'offerta culturale assolutamente importante E penso e sono assolutamente convinto e certo Che nel panorama regionale toscano Open City 2021 Scandici Sarà uno degli avvenimenti più gettonati Più frequentati E dall'offerta culturale varia Importante E per ogni gusto E ogni interesse da parte delle cittadine e dei cittadini Scandici Open City 2021 Per noi è la dimostrazione che la cultura può mettere in scena tutta la città È quell'elemento dinamico che è in grado di riaprire luoghi Che sono stati chiusi durante questa pandemia per tanti mesi E riportare in scena e al lavoro tantissime realtà culturali Che hanno sofferto in questo periodo Ma è anche l'occasione per i cittadini Non solo scandicesi Di riappropriarsi di questi luoghi E di tornare a vivere in maniera Così veramente creativa e sociale La propria vita e la propria città Sono 140 eventi In 30 location differenti Con un investimento per il comune di Scandici Di 160.000 euro Grazie anche al contributo di Unicop Firenze E di altri piccoli sponsor Che hanno poi sostenuto le varie attività Una rassegna all'insegna ancora della sicurezza E dell'organizzazione Grazie a un sito internet Che racchiude tutto il programma E a uno strumento tecnologico Il TICA Che permetterà di prenotare E tracciare le presenze in maniera sicura La collaborazione di Unicop Firenze Ormai è storica Il comune di Scandici Facciamo tante cose Abbiamo anche tanti altri progetti Che poi l'assessore Vi farà conoscere piano piano E quindi ringrazio il sindaco Ringrazio l'assessore Devo dire che noi non abbiamo mai smesso Neanche durante questo lungo periodo Di pandemia Di sostenere i teatri Sostenere le attività culturali L'abbiamo sostenuto Anche se sono state chiuse Perché il mondo dello spettacolo Il mondo della cultura È uno dei mondi Che ha più sofferto Il tema della pandemia Adesso questo bellissimo programma del comune Ci dà la possibilità Di tornare tutti un po' A vivere Io credo L'assessore alla cultura La so meglio di me Quanto sia vitale Nella vita di ognuno di noi Poter avere occasioni Non solo di stare insieme Ma di usufruire di uno spettacolo Di un concerto Di un'attività culturale Che è quella che ci rende persone E quindi C'è un grande bisogno di questo Questo programma Che è così vasto E così bello Sarà un'opportunità importante Per tante persone Per tanti ragazzi Per tante famiglie Di poter uscire Stare insieme E stare insieme alla cultura Ecco questo Quindi noi sosteniamo volentieri Questa attività Perché posso dirlo Non ci si nutre solo di cibo Ma ci si nutre Tante altre cose Soprattutto di cultura Quindi insomma Per noi è importante Le persone sono persone E non sono consumatori Riapre sabato 3 luglio Dalle 18.30 La terrazza di San Casciano dei Bagni 15 appuntamenti Tutti a ingresso libero E su prenotazione Organizzati Grazie al sostegno del comune E al contributo Del consiglio regionale Della Toscana Si parte con l'incontro Con Maurizio Marinella Imprenditore E punto di riferimento Dell'alta artigianalità italiana La terrazza nasce Cinque anni fa Per volontà Del comune Di San Casciano dei Bagni Di San Casciano dei Bagni E di un gruppo di amici Che insieme abbiamo pensato Di creare questa rassegna Culturale Ma diciamo Dal sapore pop Perché ci piace Definirla così A San Casciano dei Bagni Che è l'ultimo comune Della Toscana Proprio al confine Con il Lazio E l'Umbria Siamo proprio al confine Idealmente quindi L'idea è quella Di creare Una rassegna Che possa spaziare Da temi molto diversi A pubblici diversi Quindi che possa parlare A pubblici diversi Quest'anno Infatti avremo tematiche Affronteremo tematiche Molto diverse Ma contemporanee Come le frodi telematiche Il problema Dei big data E diciamo Anche dei bitcoin Di tutta la situazione Che si sta verificando A livello globale Affronteremo il tema Della post pandemia Con il professor Romano Prodi Che verrà intervistato Da Dario Di Vico Avremo Parleremo di cinema Con Isabella Ferrari E con Marco D'Amore Due attori Diciamo iconici Sul panorama nazionale E avremo molti altri incontri Anche presentazioni di libri E poi avremo Anche una superstar Di questo anno sportivo Che è Maxi Rena Lo skipper di Luna Rossa Che ha portato Grande successo dell'Italia Alla finale dell'America's Cup Quindi ci racconterà Un po' il dietro le quinte Di questo grande evento Sabato sarà un tema Legato all'eleganza Dedicato all'eleganza E al Made in Italy Perché avremo Un grande maestro Dell'alta artigianalità italiana Che è Marinella Il proprietario Della storica Sartoria napoletana Un uomo Che contribuisce A portare il nome Del Made in Italy Nel mondo Le cravate di Marinella Sono state indossate Da grandi capi di Stato Da Putin Obama Silvio Berlusconi I nostri presidenti Della Repubblica Lo regalano Come oggetto Diciamo di culto Proprio di rappresentanza Del Made in Italy E verrà intervistato Da Xaba Della Zorza Che è una Delle influencer E delle conduttrici televisive Più importanti del momento In tema di eleganza E di come dire Anche di Buone maniere Ecco Di lifestyle L'ultimo comune Della regione toscana Siamo proprio al confine Con il Lazio E con l'Umbria E cercheremo di animare Questo comune piccolo Perché siamo solo 1600 abitanti Con un'offerta culturale Di grande qualità Con grandi personaggi Affrontando temi diversi Quello che vogliamo fare È dare visibilità A quello che è Un comune piccolo E quindi Anche se ha tantissime ricchezze Vive un po' Di tutte le difficoltà Che i piccoli comuni vivono E vogliamo farlo Con dei contenuti importanti Come quelli culturali Vogliamo un po' raccontare L'Italia Dalla nostra piazza È un territorio bellissimo Che sa unire La bellezza Paesaggistica Anche ad un cartellone Culturale Di altissimo livello Consentitemi di ringraziare La sindaca Di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti Per l'opportunità Che ci ha dato Noi abbiamo l'idea Di una Toscana Diffusa Che abbia la capacità Di saper valorizzare Le eccellenze Ci sono sui nostri territori L'appuntamento Della terrazza È esattamente questo Riuscire a dare Un messaggio di speranza A un'Italia Che vuole ripartire A una Toscana Che vuole ripartire Fatta di Tanti incontri Molto differenti Tra loro Ma tutti con un profilo Di altissimo livello È un modo Per mandare Un messaggio Di speranza Dopo il tempo difficile Che abbiamo vissuto Da una piazza Una piccola piazza C'è la capacità Di saper dare Una visione Molto generale Di quello che accade In Toscana E nel mondo Per questo Ho accolto subito Con piacere L'invito Ed è bello Vedere le porte Del palazzo Del Pegaso Che si aprono Si aprono A tante iniziative Culturali A tanti momenti Di ripartenza Il segno Davvero Che stiamo uscendo Dalla fase più difficile Della pandemia Però Visto che da ieri È stato possibile All'esterno Togliere le mascherine Fatemi mandare Un messaggio Alle cittadine E ai cittadini Toscani Continuiamo A rispettare Le regole Che ci siamo dati Non è ancora Tutto passato Noi dobbiamo Correre veloci Sulla vaccinazione Ed è quello Che stiamo facendo Ma a ciascuno Di voi Chiediamo Un ulteriore Ultimo sforzo Evitiamo Che ci sia Una ripresa Del virus La variante Intiana Preoccupa Tutti Abbiamo visto Di oggi I primi casi Purtroppo Anche in Toscana Noi correremo Con i vaccini Ma ciascuno Di voi Può fare La sua parte Per uscire Da questa Terribile pandemia Per uscire Grazie a tutti.